Appello alla cittadinanza valenzana, 27 agosto 2017. Sono passati 70 anni dalla fondazione del campeggio, grande iniziativa per la comunità valenzana e per chi ha nel cuore la montagna, grazie ad un'idea geniale e coraggiosa di Don Pietro Battecazzone. In tutti questi anni il campeggio ha accolto migliaia di persone in un ambiente familiare a contatto con la natura, ma soprattutto è stato luogo di cui generazioni di giovani valenzani e nonni hanno avuto l'opportunità di condividere esperienze formative ed educative senza parli, in un clima di sincera amicizia e profondi valori. Vedo che c'è qualche preferenza. Come in tutte le strutture, per mantenere integre e sicure, sono necessari interventi di manutenzione importanti ed onerosi. proprio in questo periodo è sopraggiunta la necessità urgente di dover programmare in questo intervento al fine di poter garantire la continuità del funzionamento di questo luogo, così tanto cara alla comunità valenzana, collocato nel magico scenario della rottornata. Siamo dunque tutti chiamati ad un nuovo senso di responsabilità, dettato dalla presa di coscienza e dallo stato di conservazione attuale del campeggio ed individuare da subito quali interventi risultino indispensabili per mantenere viva, efficiente e sicura questa meravigliosa realtà. Ad oggi, due sono le principali opere di manutenzione straordinaria individuate da realizzare al più presto. Il rifacimento totale dell'impianto idrico e quello dell'impianto di riscaldamento. La realizzazione di queste due opere comporteranno un costo preventivato di circa 100.000 euro. Per ragioni climatiche, i lavori dovrebbero essere effettuati entro la fine di ottobre per poter usufruire della struttura già a partire dal prossimo periodo natalizio. Per questa ragione, tra gli amici del campeggio e gli amici di Don Pietro, si è recentemente istituito un comitato, nato volontariamente per promuovere una sottoscrizione e per sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta fondi per le opere sopraccittate. I membri del comitato sono Baiardi Luciano, in ordine alfabetico, Buttini Carlo, Ferrari Giampiero, Mattè Emiliano, Manfredi Giorgio, Michielon Gastone, Picchiotti Giuseppe, Re Gianluca, Staurino Palo e il sottoscritto come coordinatore protento. Monsignor Massimo Maragini, provosto di Valenza, ha prontamente accettato la richiesta di aprire un conto corrente dedicato esclusivamente a tali opere. Le modalità per partecipare alla sottoscrizione possono essere due. Primo, dare il vostro contributo ad uno dei componenti del comitato o versare direttamente sul conto corrente bancario. Le coordinate del conto corrente, conto corrente intestato a Parrocchia Santa Maria Maggiore, pro-campeggio Don Pietro, presso Banca Prossima, che è una branca dell'intesa San Paolo. E qui c'è il codice IBAN, che non sto a leggere perché sono impazzito. Nello slogan, Salviamo il campeggio, si vuole esprimere il desiderio che tutti i giovani possano continuare a seguire le tracce lasciate alla comunità valenzana da parte di chi ha fondato questa realtà, consegnandola su sui monti, la propria vita al Signore. Il comitato ringrazia anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla sottoscrizione con la loro generosità permettendo la realizzazione di queste opere. Il campeggio è di tutti noi, salviamo il campeggio, salviamolo tutti insieme. Il comitato. Grazie. 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 Grazie.